In coincidenza con la conclusione del laboratorio di arte plastica attivo dal 2 maggio rientrante nel progetto Murap 2022, questa mattina nella scuola elementare di via Sacco a Pescara sono stati presentati eventi manufatti scultorei realizzati da altrettanti abitanti del quartiere Rancitelli che verranno collocati nel nuovo recinto del Parco della Speranza previsto dal progetto di riqualificazione urbana del quartiere. Vale la pena sottolineare che tra gli autori delle opere in oggetto vi sono persone con fragilità psicofisiche, persone con handicap e due detenuti, questi ultimi autorizzati dall'ente carcerario. L'amministrazione comunale ha investito molto su questo progetto, un progetto che nasce come un progetto di riqualificazione ma un progetto culturale e un progetto soprattutto di inclusione. Abbiamo tanto bisogno soprattutto in una parte così difficile della città di Pescara come questa dove ci troviamo adesso, della Villa del Fuoco e comunque della periferia urbana della città, poter portare avanti un progetto di coinvolgimento dei ragazzi, dei detenuti, di tutti coloro che nella zona hanno voluto partecipare a questo progetto. È veramente importante, ci dà molta soddisfazione e ci riconosce un lavoro che stiamo portando avanti con tanta passione e veramente con tanta soddisfazione. Tra i nostri progetti, questo è uno dei più importanti, quello del Murap, che tende appunto a valorizzare, riqualificare le periferie attraverso la cultura e attraverso l'arte. Fondazione Aria è una fondazione costituita da imprenditori intellettuali che si sono messi insieme per l'ambiziosissimo compito di migliorare la vita anche attraverso la bellezza. Questo è stato in sinergia con l'architetto Sonsini nell'ambito del progetto. Abbiamo individuato dei ragazzi che avevano delle problematiche e pertanto inclusi in questa opera di cultura che va a evidenziare un aspetto culturale e pertanto abbiamo iniziato a interfacciarci con questi ragazzi e una vera integrazione sociale. Su questo dobbiamo puntare nell'ambito della regione Abruzzo e è fondamentale l'intervento degli adulti per far sì che qualsiasi tipo di problematica che si attraversa anche a livello adolescenziale vi sia il recupero di questi ragazzi.